L'incidente sulla provinciale 460 nella mattinata di venerdì 22 marzo intorno alle 11 all'altezza di Salassa. Una Renault Clio condotta da un uomo di nazionalità cinese è uscita di strada e ha terminato la sua corsa contro ad un albero. Sul prato del costeggio è la carreggiata. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Bianca del Canavese e della Croce Rossa, i vigili del fuoco di Volpiano e San Maurizio Canavese e i carabinieri di Quarnier. L'uomo fortunatamente non ha riportato gravi ferite. La dinamica è il vaglio dei carabinieri. L'uomo fortunatamente non ha riportato gravi ferite. L'uomo fortunatamente non ha riportato gravi ferite.